Stiamo chiamando su disco, non si può... Nooo, è una fregatura, non è vero! È un fake! Ti casco sempre perché... Poi intanto mi arrivano veramente, mi arrivano veramente... Ma è non rispondere, tanto sono sempre dei minabellini... Sì, sì... Allora, ragazzi... Non è mai una cosa importante, quando ti chiamano su disco è sempre una cazzata, non è mai una cosa seria... Allora, visto che è arrivato quella... Facciamo un bel effetto sonoro che lui piace tanto... Guarda, se è bella gioia è tutto più... No, no, no... Occhio! Era forza Inter! Ecco, bravo! Solo defollowato! Nooo! No, 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 scherzo, scherzo! Forza Milan! No, che schifo, guarda... Guarda, ti mettessi il banner solo per questo... Però noi parliamo sempre della ventesima squadra in Milano, quindi... Non saprei mai qual'era l'effetto sonoro che ti ho dedicato, dai... Guarda, se lo scopro... No, no! Ragazzi, scrivete! Scrivete! Coprite la chat! Coprite la chat! Lo vado a vedere dalla chat dopo, replica! No, no! Nascondete! Nascondete le prove! Nascondete le prove, dai! E' un defollowato! Nooo! Banna Jack! Non posso! Non posso! Non si può! Tu dici, io banneremo il canale Jack, però boh! Vai te! E' questa? Uuuuh! Mamma mia che sondaggio! Vabbè! Facciamolo! Facciamolo! E' un sondaggio che riguarda te... Non... Non so... Vabbè... Vediamo eh! Un sondaggio di Handel! Ricordatevi che Kla non è democratico eh! Kla non è in debottosia! Oppia appunto! Occhio a quello che... Io non farei troppe cose... Si! Kla dovrà riassumere... Ann... Sir... Victor... Ma riassumere non è un mio dipendente! Quello assumo! Si! Ma neanche i... Ma neanche i termini sapete in italiano! Porca trota! Ho apporto io! E' vero che sa che sei un boss dell'organizzazione! Ma di cosa? Eccolo qua! Ma non c'è mai stato lui le scarpe di gomma? Scarpe di gomma? Che c'è delle scarpe di gomma? Le scarpe di gomma! Forco! Eh... Insomma... Una bella cosa! Ok! Il sondaggio esiste ragazzi! Il sondaggio esiste! Ovviamente... È un cannele hijack! Così! Qui c'è... Io prenderei provvedimenti sul cannele hijack! Come no ma! Ma comunque mi assomiglia sto personaggio! Vedo la parte che ci cade! La parte che lui è biondo! Ha delle labbra lucide! Ma si sembra Nino D'Angelo! Nei suoi vecchi film napoletani! Nino D'Angelo! Quelli beceri schifosi proprio! Ho pochi soldi sto giorno! Mi abbasso la cosa! Ragazzi! GTA non è brutto come gioco! È veramente bello! Lo consiglio perché... È un bel gioco! Consiglio perché? Per passare il tempo se avete gli amici! Se siete da soli! GTA Online ovviamente no! Se siete da soli andate... Se siete da soli andate a... A farvi le donne no? A giocare! In GTA! Sì esatto! Ma quale GTA? Nella vita reale! Mica! Ma quale videogioca! Sì esatto! Giusto giusto! Cioè prima passate dalle nostre live! Poi andate a donne e le altre live non le guardate! Giusto Jay? Sì giusto! Prima le nostre live! Vediamo se vuoi qualcuno! Prima vengono le nostre live! Poi vengono le vostre donne! Le donne vengono sempre donne! Sì ma dopo! C'è dopo le nostre live! Scusa! Certo! Prima le nostre live! Poi fate quello così! Avevi un bel diamante pronto! Ma sai che classe l'ha il diamantone anche lui! Che bel diamantone! Eh... Cos'è che mi mancava? Scusa! Ti mancano le tre missioni dell'equipaggiamento! Sì appena rifai il plus lo facciamo! Con piacere Andre! Con piacere! Cavolo non vedo l'ora di fare qualche diamante! Sono a 1.119.000! Io sono solo a 9.888.000! O solo eh! Sbagliato! Intanto sai dove puoi venire a prendermi? Al locale! 11.000.000! 11.000.000! E' al locale! E' al locale! E' al locale! Ma io sono nel mio Cosasca! Perché non va anche tu in Cosasca positive? Perché sto facendo quella del locale perché è così! Nooo! Non riesco perché devo andare poi in live da quell'altro! Si ma al locale non va giù se tu non giochi! Quello è bello! Si che va giù! Va giù anche se non giochi! E mi ha andato giù? Si! Mi ha andato giù! Si si mi ha andato giù! Io quando sono connecato non lo faccio! Sarà il locale di Nino D'Angelo per quello! Beh! Un po' l'altro! Quando c'è Nino D'Angelo quello locale sembra una brutta cosa! Scegli! O Nino D'Angelo o Enzo Paolo Turcio! Non so chi è il secondo di rispetto! Come no? Ma hai visto? Come no? Il secondo è quello di Carme Russo! Come no? Non lo sai chi è! Quindi l'ho già visto io! Eh! Forza! È il marito di Carme Russo! Certo che l'hai visto! Ma quello che dice Ciavo Pella Gioia come stai? Lui! Lui! No! Quello di sei tu! E' quello! E' quello! Ma i nuovi DLC su 3-4 non arrivano! Ho annunciato che i prossimi saranno su 3-5 soltanto! I diversi nuovi colpi! Li faranno dalla 3-5 un po' Hanno smesso di far cose su 3-4! Che c'è stato fatto con Kai? Io non so ancora su! Mi ispira talmente tanto con Kai Operico! Finchè ci sono i soldi! Finchè ci sono i soldi! Una bella stagio! Bella Gioia! Io prenderei dei provvedimenti Sony o Rockstar! Che cosa? Se esce un'asta così io! No! Potrebbe fare un DLC chiamato Bella Gioia! GTA 5 online! Bella Gioia! Colpo Bella Gioia! 1-1! 1-1! Guarda! 1-1! 1-1! Quella è una partita! L'Inter ha vinto il campionato! Basta! Di prego! E' l'unità! Ma se perde! Dile anche te che senti! Ah! Ma no! Ma sondaggio! Io voglio la cosa matematica! Perché se le perde tutte cinque dopo! Se le perde tutte! Dicono! Quindi! Ma non è che me la sta guffando! Perché lui vuole che il Milan ci vada a vincere! Ma io il Milan non può! E' il quinto posto in campionato! Che cavolo vuoi il Milan? Ha vinto un tavolo! Il Milan è quinto in campionato! Il gioco si arriva al 100 milioni! Però la guffi! Perché da più di una settimana mi portivi a dire di gioco un mese! E' un mese che lo dico! E' un mese! E' vero! Ormai è finito il gioco! Finito! Noi! C'hanno ancora cinque partite! Ma che cosa? Che vuol dire? Cinque partite! E' una squadra che non si può perdere! Perché mica l'incompetente! Guarda! Gli Inter me la aspetta! Guarda! Io purtroppo i miei folli li conosco tutti! Guarda! Ma mai abbiamo detto! Voi neanche in sempre si andate a parlare a casa! Dissi! E io non parlo proprio! Chi l'ha detto? Ho detto che siamo quinti! Non deve fare il mio! Non deve fare il mio! Può vincere tutto! Un disastro il mio! Non lo posso dire! Ha vinto il sì eh! Il sondaggio ha vinto il sì! Si perché il pubblico dice che Claude dovrà imperativo! Dovrà! Dovrà! Dovrà imperativo! Allora faccio l'opposto di quello! Ragazzi! 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 Vittor Salvi va nel suo esercito! Ufficiale! Claude mi assume a tempo indeterminato! Nelle piantagioni! Nelle piantagioni! Guarda! Ecco! Claude ha dei lavori extra! Chi vuole lavorare? Chi dice che non trova lavoro? Sarebbe! Eh sì! Sarebbe il mio sogno! Claude veramente! È un ottimo! È un ottimo! È un ottimo capo! Vi dà anche la cena! Vi dà anche la cena! Ma quella no! Quella compravo! Vabbè! Vi dà i soldi per comprare la cena! Diciamola così! Quella poi! Guarda! A patate! Vi vedete! Potete vivere bene! Tante patate ragazzi! Assolutamente! Ah! Mamma mia! Vero! Sì! Assieme a Coli! A Coli! Babangida! E Papa Waigo! Mamma mia! Papa Waigo! Mamma mia! Babangida! Papa Waigo! Aveva partecipato a una mia serata oro una volta! Papa Waigo! Che c***o di Claude! Era entrato! Perché fa paura! Perché fa paura! Come l'hanno considerato giocatore! Sì! È scarso! È scarso! Poi non è che lo consiglio! Poche non lo consiglio! Non ricordo nulla! Sono quelli che! Sono quelli che correvano 800 km con i piedi stori! In realtà Claude vorrebbe assumere Gresco ai lavori forzati! Gresco! Almeno dice! Almeno lavora un po' nella sua vita! Sì! Jay Jay o Coach! O Coach mi piaceva dai! Nigeriano! Era quello del Paris Saint Germain! Sì! Mi ricordo! Mi ricordo! Ma è quello che c'era rosso! C'era gustato! Sì! Gresco! Penso che dovremmo andare in piccoliniera! Sì! Passi 280.000 ore alla sicurezza! Grande! Grande! Vedi chi vuole bene Gresco! Maledetto! 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 Carai! Il nome di Youtube! Maledetto! Vava in gira unico 99 velocità ISS! E' per quello che me lo ricordo! Adesso me lo so ricordato! Era quello velocissimo! Lo prendevo solo perchè era veloce! Esatto! Quello che mi sono ricordato! Bello internet su questa Soccer Pro! E' la cavolo! Sarà bello! E' appunto! Prima di chiamarsi PES! Era ISS! Poi ISS Pro! ISS 64! Era così! Peso su questa Soccer! Anche se il suo vero nome è sempre stato e sarà Winning Eleven in Giappone! E' Winning Eleven! E' Winning Eleven! E' Winning Eleven! E' bello! Ci assomiglia! No! E' proprio quello! E' quello! Solo che era più veloce perchè era a 60hz! E' no! Accordi! Era a 60hz! Quindi era molto molto più prestante! 100hz! Sì! 60hz! Sì! Appunto! Le mie live sono 60hz! Se i giochi non sono 60hz! Non è che sia una patata! Oh! Ecco! Ho trovato Clark che sta andando in giro con una barca! Ma cos'è il binghi? Veramente? Sì! Che poi lo spinghi! Lo spinghi! Lo spinghi signore! Mamma! Che cristo! Spinghi il binghi! Spinghi il binghi! Spinghi il binghi! Io bannerei Jack! Comunque ho fatto una domanda prima! Quando eravamo ben bravo! Dopo poi anche te! Quali sono i facciunti famosi che proprio non sopportano di rivirsti in faccia? Fanno sud! Politici a parte! Ve lo ricordate Dado Perso? No! Non me lo ricordo Dado Perso! Perso sì! Era quello del Monaco era! Sì! Sembra! Vai! Vieni che accetta! C'è un giallo che cos'ha? Nooo! Mi ho scendato! Per la mia! Oh! Ma l'ho accettato il tuo invito! Sì! Era quello del Monaco! Sì! Ah! Il mio addetto! Il mio schiavo carino! Il mio schiavo! Il mio schiavo... Eh.. Adetto era più bello! Il mio addetto! Sei il mio addetto allora! Dimmi... Sì signore! Ok! Facciera la domanda! Facciera domanda! Ok! Facciamo... Cos'è che devo fare la preparazione? Qual'è? Eh! Equipaggiamento! Tutte tre nella prima.. Non la torcia a gas, cioè, fai la torcia a gas, magari. Torcia a plasma? Mmm, sì. Ok, facciamo la torcia a plasma. Dica, dica. Vai! Sei una cazzata a banno Jack, ve lo ve lo dico. Ma, è bufomia! Non ho fatto niente io, non ho fatto niente! Eh, ma così! Vai, via, sali, dai! Venga, venga! Beh? Clà, hai provato Subnautica, come ti sembra? Lo consiglio... Lo sto giocando alla domenica su YouTube. Si, è più... Ma, è normale. Cioè, non è un gioco per me, proprio. Giusto per passare il coloretta alla domenica. Se a uno gli piacciono i tipi di giochi, è bello, cioè, non è brutto. È abbastanza fatto bene. Forse l'unica cosa che manca è l'alline, non è brutto. Ecco, lui sarebbe stato un po' casa sana. Per fare una modalità online sarebbe stato meglio. Invece offline... Ma è solo sott'acqua o puoi camminare anche sulla terraferma? No, la terraferma è il suo stato. Certo. Sì, c'è un'isola nelle isole. Ho mandato la scorsa puntata. Le isole... Si, è carino. L'unica cosa è comprare le cose. È una rompitura veramente distante. E' un'ultima quantità di soldi aspettando al top, eh? Ok, adesso ho usato il comando Vampeta, che dice il più grande cacciatore della storia, però il Jack è qua. Ah, si è esplorabile, chiede? Si è esplorabile, vero? Si, certo. Le isole si si esploravano. Non pensavo, non avevo trovato io nel mio nonpleno. Non ho mai trovato la terraferma. Eh, devi andare in fondo. Si, io sto andato una volta disfuggita. C'è un'astronava aliena qui. Un casino animale. Non, non, non. Mi hai fatto la risata. No, ma adesso sto pezzo, claudo! Cos'è? Dai, la risata fa l'idea. Non me, no. Ma te no? Ma l'obiettivo del gioco qual è? Ma chi? Del gioco di Subnautica? Eh, di questo disgraziato che è caduto in questo pianeta. e lui deve aspettare i soccorsi praticamente deve aspettare i soccorsi però sopravvivendo quindi nutrirsi quello che c'è eccetera devi anche sterminare i giganti è anche uno degli elettivi se non sbaglio i giganti no però ti devi costruire i pezzi della nave per andartene via il gioco è andarsene via da quel pianeta raccattando i pezzi qua e là può stare è un survival hai preso la macchina arrivo ah vedi la stasolti già hai buttato butto la granata a gas che storia per fare la gassosa bellissimo cioè cos'hai fare lo sciamo sott'acqua o c'è un senso poi quando scappi con l'astronave a terra Los Santos credo che vada a casa sua penso che vada a Los Santos e poi a casa sua no ma puoi andare su tappa a cercare i materiali per fare i pezzi a me non è una cosa che mi piace tanto però però vabbè ma alla fine è una cosa che di minecraft su wavio se vuoi capire ma sì sì ci può stare io personalmente io personalmente non mi piace granché come me ma non che sia brutto che non va bene per come ho fatto io cercare i pezzi però è giocabile però però è giocabile non è è tutto così vero sempre cercare pezzi cercare pezzi costruirli esplorare se non ci fosse anche terrafermo con nemici da uccidere no non credo quello ci sono degli animali che ti attaccano che puoi uccidere ma su un po' ma con cosa sulla terrafermo cos'è ammazza che c'è una lancia col coltello tu devi farti coltello prima ahhh coltello capito capito penso che ti puoi fare anche i fucili ma tu puoi farlo allora non ci giocherò mai ok è bocciato da andro io l'ho disinstallato e poi me lo reinstallo e l'ho disinstallato il momento eh il problema è che manca l'online se invece l'online l'avessero messo eh se avessero messo uno online si potrebbe giocare e potremmo farci la copia insieme pensa che bello si si poteva anche starci ma cogliere dobbiamo fare una foto alla lavagna ok hm potremmo si ha iniziato più più di più sta distruggendo chi è che l'intrugio io ho sbagliato volevo sparare e basta non lo ammazzare no no ho preso il caffè ho sparato il caffè io lo so io non lo faccio ma lui doveva lavorare a me se devo trovare un gioco simile mille volte meglio strand and deep che è quello che danno il prossimo mese con plus anche se e mi stanno dicendo che sia difficile si deve essere difficile boh io li prendo e li metto in raccolta basta a me non sembra tanto simile io come gioco che farmi le risorse a me piace tantissimo My Time at Portia che è un gioco veramente veramente bello ha la sua trama comunque va in giro ma la macchina dov'è? non so ma io la vo' baccheggiando vabbè ruba questo è colpa di questo grettino nooo ehi mi sono svegliato come ho non ti chiami no andiamo che lavoro per te mi sono rotto una gamba soltanto un albero azotica per sempre vabbè nooo rimane fissa non c'è non puoi fatti operare no ma dove? sono entrato un arreto vai eh non so nel Stranded B dove vai? nel? Stranded D ah è un gioco che danno al prossimo mese esattico plus ah io oggi ho scaricato quello che mi consiglia questa sera ah quello lì quello che si chiama Idol High e ne ho e ne ho altri qua tre o quattro da presentare si si se su un'esercituta di chi opera? non so impari te a operarti si e così e chi si schede? se ti ferisci se ti ferisci un'errola del set mica sei prima a spararti perché tanto veramente sei morto ti sfido su fortnite bella poffa ti sfido su fortnite bella poffa bella poffa è robito su fortnite è robito su fortnite che un venerdì oggi sapete cosa significa? che domani è sabato e domani è sabato a casa no no sarà emozionante perché ci sarà Ryzo e io non ho ancora provvichiato se ti piace andare in giro con l'arco fare stelte e cacciare i nemici beh stelte merda stelte merda probabilmente ti piacerà perché è adventure probabilmente ti piace provalo tanto non ci costa niente io ce l'avevo già da un po' di tempo come vedi che sono fatto la sono fatto la ieri è solo che mi ha dato anche questa che è una bella cosa e vedi se vedi sono preso da Overcooked io sono sincero mi ha preso troppo questo Little Nightmare è bello vabbè se stare a sto cavolo di gioco a volte sono tentato di cancellarlo ma non lo faccio per rispetto di qualche utente ma la torcia è plasma anzi forse lo tolbo dal plus se lo tolbo dal plus se lo tolbo dal plus ciao ciao lo uso qui lo tolbo dal plus si vi ero già mostri strani fantascienza si si è fantascienza è chiaramente fantascienza è nel futuro con le macchine con i macchinari se si devi essere fan del biennale ma di biennale ma di biennale è stranico però è anche molto privale ma vedi un po' che è veramente privale dai c'è uno sguardo fatti prova voglio far cry 6 sì a novembre no? novembre no? mi sembra cosa sta succedendo? sui nemici che stavano si nooo stai esplorando le cose ciao ciao è tutto con la reazione a catena e e e ora un po' di emotivo è un colpo grosso è un colpo grosso è un colpo grosso eh no come hai perso la voce eh si l'hai recuperata a te per fortuna però aspetta il che ok è il caso che arrivi perché arrivo eh tu spara al mondo ok vrc8 vrc8 a 10 euro ma vrc non è il gioco di guida non ti facevo un fan del gioco di guida sinceramente andro mi metti la mappa mi metti il cos'altro mi metti la mappa mi metti la mappa mi metti la mappa abbiamo una ruota rotta e questi scemi che si messi insieme ecco siamo da me in cloud no ma c'è qualcosa di strano non possibile tutta questa strada ma l'ho sbagliato per quanto avevo detto no 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 non tu ora me l'hai messa si grazie anche bella caris è bello quel suono il mio preferito è probabilmente questo pazzesco ragazzo pazzesco uh ho messo un messaggio che non metto da una vita Assassin's Creed Origins a 10 euro 15 15 è un po' d'ardo 10 è bello a me piace io sono un grande fan è un gioco ovviamente di ruolo dove esplodi l'anzito Egitto ci sono tutte le sottotrane epiche nemici leggendari quindi ti piacerà per forza ti piacerà per forza poi è anche bella la trama io l'ho spunciato il platino e anche tutti i proteini in episodio ma tu dove sei chiamato là? no ero morto adesso no però non ho scoperto delle cose se ti stai arrivando no ti stai arrivando con te non lo so 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 ma io non lo so addio andiamo oppla vai andiamo ma hai lasciato indietro qualcosa? è una torcia ma come? non l'avevi preso te no io ero impegnato sai a non morir ecco qua è una macchina rotta è una macchina sportiva tu vai a prendere una torcia ti manca porca miseria no io l'ho buttata io forse io gli ho buttata io davvero che stasera non finirebbe tardissimo se non ci vediamo un po' non lo so un bel po' non lo so dipende lui se diventa prolisso finiamo all'1 però dimmi eh sai com'è lui questo è un po' prima che non lo state finendo ma in teoria alle 9 abbiamo si lo ce l'hai le 9 di sera ma se è un argomento che mi interessa però vabbè ma la fiesta ma scusa quello su papa poteva parlare del papa ragazzi bella merda Jack ma hai speso 4 milioni di bella moto e non la usi? non la uso perchè perchè non ho io la torcia al plasma perchè la la spesa un po' di unica la si perché non la richiami? perché non la richiami? perché non la richiami la moto? vai fallo è una bella idea ma veramente ce l'ho io no chiamala qua ah che buona idea così puoi venire che lo stendere vera è una buona cosa ok fermati 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 chiamata aspettiamo che arrivo così io vado a te ti abbandono se non c'è una mini prossimità qua cosa succede? come ne esigo? va no 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 sta finta non lo fare sull'oppressor ma che sull'oppressor? così poi li ho pagati ma che cazzo si fa quando si fa esplodire? una bomba sull'arriva una bomba in prossimità non c'è male non c'è male le sparaglie ok provo col tasto destro no va bene dai tu vai allora cos'azzo tastone grande ok io lo sparo io lo sparo a me ma che non lo abbiamo usato? boh così a caldo eh boh completamente a caso ragazzi completamente a caso oggi sono veramente molto 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 stranito qui c'è a sto magico potere a volte di far arrabbiare la gente madonna madonna bravo ma allora io mi sono imbestellito l'altra volta mi sono incorrigito infatti non ho risposta a nessuno su te ragazzi eh 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 ma sta mica rossiato ma dai grazie pronuncia sinistra adesso lo so mi giravano talmente tanto che vuol dire il primo che mi scrive ho capito è un po' tardi ormai sono già in nel riporto poi la passata faccio subito una prova nel cordone della tangenziale sembrerò sembrerò nulla avrei questa riporta trovo tutto è vero funziona wow ho detto un altro modo funziona funziona poi così puoi indicare beh rimani in giro che tanto si è uguale che tecnici la missione quella del camion l'abbiamo già fatta si si quella del camion l'abbiamo già fatta è bello bello ma qui c'ha un potere pazzesco è quello di far perdere la pazienza alla gente si si è la magia di Twitch bubo bubo va bene arma pesante non c'è razzi non c'è missile buono buono è consegnato buono invitami pure no è partita la missione per finito questo è già in giro no? è finita la missione è ora ne hai iniziato quante ma ne hai iniziato quante ma ne hai iniziato quante poi si sta parlando bene 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 che si fa così è facile non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma c'è dove è? dove è la destinazione? ragazzi guarda vedo che stasera canterai in live con una sorpresa se stasera canterai anche tu con la catchy non c'è però piccolo catchy non piccola piccolo bro kitty piccola kitty piccola kitty no come si è morta? non c'è così forte come si è morta non c'è così forte come si è morta non c'è si è di forte no sono saltato in una maniera ma come sei morto? è un atterraggio non morto mamma mia che dipendenti che ho mai visto ecco 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 mi sono ristrato perchè stavi parlando di hit ero indietro oh no veramente no non stavi parlando di hit è arrivato a trovare lui con l'oppressor arriva fa le belle cose le belle cose il boss arriva sempre tutto tutto l'atterrata mmmm adesso è prestissimo oggi sono solo le stelle merda è una cagata pazzesca grazie quello sempre quello sempre è prestissimo oggi è prestissimo prestissimo è libero è assurdo ragazzi oggi ovviamente qui ci sono quelli assaggi io posso venire infassionato non ci sono 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 tutto collassato di Twitch tutto collassato non è oggi sempre collassato vabbè oggi però proprio oggi l'elite l'elite il colpo dell'elite ah Andrea sono due volte che ho fatto il colpo dell'elite ma mi ha dato sempre i 50.000 purtroppo ho fatto due volte l'elite di fila sul mio colpo non so perché ho fatto l'elite in due volte e non mi ha dato più di fila del solito anche perchè mi ha dato più di fila del solito anche perchè mi ha dato più di fila del solito anche perchè mi ha dato più di fila di fila è bravo che mi dava qualcosa di più avendo fatto l'elite due volte di fila tempi perfetti ok posso facciamo andare alla seconda persona excellent anche dopo questo abbiamo ancora la missione e poi mamma mia che roba gamble 222 ah li persi vabbè ci sono solo 22 dai mi guarda classifica top 20 boss va bene la faccio subito boss oh guarda sei sempre primo ma questa è una chiamata vera stavolta non l'avete messo un no niente non è una chiamata mi sembrava sembrava una chiamata vera ci vediamo lì ci vediamo ci vediamo ci vediamo lì all'obiettivo vedi io come vado prendo e vado prendo e vado prendo che io l'ho presso vedi ma vado vado come un toro vado uuuu non mi torno no a meno che tu non sai qualcosa di chiesto tu mi confermi di aver creato la frase di peroro se tu mi preferisci la frase si assolutamente si si guarda l'ho mettata io come tutte le cose che ho fatto nooo come si chiama immagine non ricordo come si chiama è quella con la barra le tre rosse è un emotico di Twitch si ma l'ho mettata io no no io l'ho mettata ho mettato tutto io ho mettato io sui anche poi voglio dire a fine c'è una persona che ti copia le tue idee tipo quelle che fanno smr con il microfono è un'idea che mi hai tirato chiaramente te ci vuoi ah si è è con la banana gonfiata si 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 ho un'idea che ha creato jack sai dove ti vorrei venire in live un farcaio da io voglio riprendere io ho la live facevo il 3 mi piacere tantissimo guarda si ma mi ci vedrai anche io guarda quello puoi portare gli uncharted sai cosa vuoi portare gli uncharted sono messo bene quindi devi mettere no new down nel tuo gioco cavolo pensa che è uno dei farcai meno amati meno amati per tutta la salva come storia buono buono allora si figata ci sono arrivato anche io eh c'è gente malvagia qua no non posso mancare abbiamo affrontato già che cosa aumenta per chi sai cinque mi sembrava bello ci mi sembrava già bello ho fatto l'incro mi sembra una figata pazzesca il 5 mi sembra tantissimo bello io sto giocando con il 4 sull'incrocio un po' in un mese per non ci giocare chi è che ci farà cioè è veramente questo gioco che ti piace una merda anzi Fall Cry quei giochi di avventura d'azione con un po' di stealth ma non esagerate hit simulator vero anche che? hit simulator hit simulator no quello lo porti stasera ma si però me l'ansia a tutta la gente che mi ha detto che ti conosci personalmente il mio don è post apocalipte guarda la fallout figate erano i ruminantali è fantastico mi piace tanto il primal Far Cry Primal mi piace tantissimo infatti ragazzi tolgo sti buffi mi cuore tutta la faccia non so perchè è tornata così aggressiva è tornata così aggressiva la folla è uno dei miei preferiti penso di più del Far Cry Primal ma del Far Cry Primal mi piace un casino ragazzi troppo bello geniale più corto a me qua ce l'ho no basta un bagliato dice facciate ooooo è un gioco grazie Kevin Herrera grazie grazie thank you grazie chi è che ha detto questa cosa sbavigliare? uno della cazza eh eh guarda forse sbaviglio apposta guarda sei ospite del sacerdote rispetto no a me non da fastidio grazie benvenuto benvenuto su gta adesso sbaviglio apposta grazie davvero stiamo andando a fare caio perico caio perico grazie tiè 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 alla prossima sei italiano sei italiano ti piace che il gta Kevin do you like gta grand theft auto Kevin te gusta gta 5 dov'è? ah si ok torcia a gas ok non sabe qual'è stu primero lingua come è la lingua cacquo di badini ah oh grazie grazie a gas è un po' come quando vedevo è un po' come quando dovevo vampeta giocare vampeta? si ho detto che più o meno sbagliavo uguale solo che mi cavolavo ma guarda quella vampeta che emozionava voglio dire quelli passaggi perfetti quel gol che ho fatto quella volta la strano perché perché di solito questo non è il primo commento che farei sulla pseudo per esempio è ovvio che è emozionante sciacqua nooo non sono stato io eh non sono stato io ma per macchia per vampeta ma per vampeta che non è tutto da bene vampeta è emozionato è tempo di farlo ragazzi è tempo ok tempo per vampeta di ritirarsi proprio dall'esistenza dai che è una loro persona è un uomo onesto si uomo di famiglia uomo di famiglia tranne per quella piccola custilla della moglie eh vabbè ma lì sai com'è tu non puoi neanche andare in giro a trevere la moglie perché poi la gente si offende si offende cioè dai lui era lì che stava trevendo la moglie ha detto ma non devi te la firmi qualcosa del genere no 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 è lui tipo la mazzolata ha sbagliato è il mio socio è il mio socio è il mio socio è il mio socio però no è arrivato qui nooo mi spara i promotoni perché mi aspetti ma tu mi fai fuori l'aspettata perché io già non ti all'icione che è no che ti dà che mi ha detto che mi avessi asciutato magari ma è vero che tu ma io pensavo che si vede dentro che si vede no eh devo arrivare sii che un po' amace queste persone qua no sono scarso come la morte no a volte non è scarso ma a volte sono ora ti impallano impallano e mi fai a ridere forza campeta adesso ti lascio lì così finalmente no 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 questo è d'aiuto mi stanno uccidendo tutte le morte ecco e allora basta lavora boss lavora 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 guarda io me la prendo un attimino con calma che c'ho la torcia a gas facciamo una missione jack devi mettere un berretto un uomo stealth come te fa questi errori un po' urta lo so ma non l'ho fatto a quale non è arrivato a quale io metto sempre il berretto il problema è che se l'ho fatta l'ho fatta più veloce di clap perciò volevo farla stealth il problema è che poi non ho fatto la stealth perchè sono finita sopra con l'oppressor ma dai per la misere ahhh ma l'ho ucciso ahahah come fuori come fuori come fuori vabbè dai adesso adesso io aspetta ahhh adesso si pensa un attimo io facciamo rari esemplari di homo bifidorum che hit che hit che hit che hit addirittura attraverso il beat non toccare la torcia a gas eh la porto io ooooo cosa io ho fatto un errore ho fatto una lunga drawn uso il mio uso il mio perc father il tuo dove è tu mira ooo il mio pover tanto è rotto che me ne faccio il tuo è rotto non è rotto Gli dicevano ma non me lo insegnavano, invece te mi erano, ma gli dicevano ma non me lo insegnavano. Purtroppo Twitch è un po' così. Ma sai Andre? Tu hai una piccola proposta, se alle 19 ci sei e vuoi sentire clacca sbaviglia. No, la live non credo. L'amore dei videogames ci sei eh? Sì, prima mi metto il live col pisano lì fuori. Se vuoi. Tanto, non posso scrivere in chat. Sì, faccio l'elicottero ma non lo vedo più. Oh l'elicottero, l'elicottero che lei non si può fare, è vietato dalla legge. Ah no, non si può fare. Che si deducano per due lecce. Se mi potre... Jack, riprende questa roba, l'ho già bonificato veramente, l'ho già bonificato sull'oppressione. Eh, vedi che io, però non riesco il mitra io ai missili, non riesco il mitra, non mi piace di più il mitra. Ho messo io il mitra, non potevo mettere il mitra. Vedi che l'ho modificato, gli ho fatto questa cosa. L'ho modificato, gli ho messo le stagiature. Anche io sparo sempre al tuo mitra. Ma ciò mi piace tantissimo. Non mi piacciono i missili. E' meglio i miei missili, lo mitra ha raffinitita. Io lo uso contro... quando non devo distruggere le cose. E' un'eclap. E' un'eclap. E' un'eclap. Potremmo farsi giusto in salio a resto. Ce la facciamo? Si. Quindi se mi è utile se la facciamo elicottero, facciamo un tentativo o elicottero o niente. L'eclap non ce la facciamo probabilmente per la tua barca. Non so perchè non lo fa spawnare dal molo principale. Non so perchè. Se è arrivato qualcosa. O facciamo il tuo, che siamo sicuri che... Se io non è mica pronto, lui. Ah, è pronto. Eh no, l'ho dovuto da rifare da zero. Vabbè, troviamo. Sì, troviamo. Adesso dovrai andare a preparare. Quando vado a preparare, si. Vabbè noi ci divertiamo lo stesso ragazzi, questo è un esempio di giornata dove rimango Dove devo andare? Concluso? Sì Non si fa più? Concluso? Concluso e poi tutto destro Veicoli di approccio e logging No, devi invitarmi, devi invitarmi No, non hai bisogno invitarmi Fai la cosa, non invitarmi, vai avanti Devi fare avvia, avvia colpo Non devi fare il veicolo Fai avvia colpo Tutto in basso a destra Nella traccia schermata Ok Ok, mi ha invitato, perfetto Ma non c'è da mettere la cosa dei soldi? Eh? La cosa dei soldi, non la posso mettere? Sì, certo, dopo Ah, ok Devi avvialo come colpo chiuso, così non entra la gente Avvialo C'è nessuno, c'è nessuno No, blocco visuale non toccavo Ti prego, altrimenti la posso dire No, no, nessuno Nessuno Ok Eh, ok Sì, ma la minera è chiuda Fare avvia colpo E poi fai tutte le cose Gioca Fare gioco Gioca, gioca, sì sì Eh, basta Eh no, adesso fai tutte le cose Avvio sessione Allora, allora, te il 10% giusto? Come no La gallina Ok Ok 50-50 mi piace, ok Devi fare, se il veicolo d'approccio vabbè ce n'hai uno solo Punto d'infiltrazione fai, beh Ho solo il longfit Sì sì, va bene Seleziona il punto di Non c'è molo, no Non c'è molo principale Punto d'infiltrazione C'è attista di atterraggio Lancio mo Lancio alo Spiagio No, 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 no Canale di scolo Ma no, fai il veicolo d'approccio Non lo stai facendo, non te lo segna Veicolo d'approccio, fai longfit Ah ok, sì, fatto Punto d'infiltrazione è quello che hai Ma non fare il lancio alo Ti butta sull'isola E c'è solo il molo Molo no Va bene con il molo lì per forza Non c'è l'altro Non so perché non gli dà il molo principale a lui Poi il punto rucidio Ingresso nel complesso? Ah, un molo rucidio Un molo rucidio Non ha importanza Punto di fuga Poi sta atterraggio Il molo Non hai messo il punto di ingresso Le emozioni di Gekko ne siete gallina top È vero, io mi emoziono con gallina Ok, hai fatto canale di scolo Sì, punto di fuga o un molo Ok E ora, giorno E buono, ci siamo Ora Hai messo il silenziatore Ce l'hai il silenziatore in set armi? Non hai fatto il punto di fuga, Cla Ah, lo faccio? Il punto di fuga? Un molo Dov'è? Un molo qualsiasi Ah sì, molo nord È l'unico che ho Bingo Ah sì, devi mettere il numero Bingo E poi non devi più Metti il numero Basta allora, ho fatto Sì, devi fare set armi Controlla di avere invasore Invasore e silenziatore Perfetto, c'è tutto Ok, pronto, pronto Andiamo, andiamo Let's go Allora, vediamo di mettere qualcosa di decente Quello lì sembro Fedez Quindi no Ecco, ho fatto Si va, si va Bingo 22 Che bello Ma sai che non mi ricordo come funziona il bingo? Tant'anni Non mi è scattato? Non so perché non è scattato Boh Forse perché Hai già fatto bingo Quindi ho fatto l'ultimo E' ancora un bingo Bingo 10 Boh, non va un cavolo Ah sì, va, va Mettete solo un numero ragazzi Io ho provato il sabato E' un domenico Guarda se non sembri Nino Dango Non nulli, non nulli Devi fare un numero Senza più scrivere Bingo Cioè guarda se non sembri Nino Dango Guarda, guarda la mappa Se vede la tua finestra Ma vedi la mappa? Eeeh Eh, a girare sto coso non è Forza Eva Non è fatto, certamente Uno Due Ma dai, il primo con lo scrivere lì Non è che vuoi vedere tu, no No Stiamo perdendo tempo lo stesso, te lo volevo dire Sono incastrati Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto bingo Incredibile Era roba Ma erano solo, erano solo No C'erano due No No, di qua eh Eh, di qua per porta Sì, di qua No, ma non c'è un problema C'è qualcuno Ah, pensavo per metterla È lunga ancora Non è che ce l'ho Eh, di qua allora Sì, giusto, giusto Giusto, giusto Vai, 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 vai Molto lontano Orche Non capisco perché A me lo deve spammare Sì, di qua Sì 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 E mettiti la mascherina Se c'è Tu Tre volte me la metto No, sono veramente nuova Io sono infatti Manno male Sì 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 Io Io l'ho giocato Io Lo so Ma una volta avevo più Una volta avevo più pazze E facevo più Facevo più volentieri le cose Sì Sì È normale Adesso con il sorgere della seconda età Ma qual è? A che età è l'inizio della seconda età? Qua, a quarant'anni Quarant'anni o no? Non ce li hai i quarant'anni Mettisamente Ancora in prima età E in prima età Che l'hai? In prima età anche io sono in tre età Siamo tutti e due in prima età Incredibile Esatto Quindi a quarant'anni è buono Uno quasi in seconda età Che brutto Eh oh Che roba dai Morto Com'è morto? È morto? È morto quello? Sì Formate bene il tuo polpo Sono in tre ore Un Un Ok, fatti fuori, venici C'è una chiave da prendere La chiave è morti Tu ammazza quella Che schinato Ammazza quella lì Ma sai che devo ammazziare il bestio Se l'ho ammazza quella lì E' morto Oh la Cardio Suspense E' morto Dove di fermarmi un attimo Che c'ho la Cardio Suspense Esatto Cardio Suspense Eh beh Ci sta Eccoli qua i due Lori Quando torniamo indietro Figliamo tanto di quell'oro Oro Oro Saiwa Oro Saiwa Oro Saiwa per tutti Ok adesso abbiamo anche l'altro Vedo che non stiamo prendendo tempo No No Adesso passa E lo accoppiamo E lo accoppiamo In un'ora di San Gennaro Lo accoppiamo San Gennaro Facci un gol Ok Se uccidi quello grande cosa ha dietro E' vero, è vero Forse anche da lì Hai ragione anche te Non ci ho pensato Ma hai pensato di cambiare il percorso Poi insomma sono questi Ok tu vai quello su Quello pistola e quello su Sì Tu ammazza Sì sì Ah c'è la chiave del cancello Come la scelta la chiave del cancello Troppo tanto Vado aspettare Aspettava un attimo E poi lo faccio Mh Ammazzo quello e poi Prendo la chiave del cancello Oh canna mi sono dimenticata Ah il punto di tenere è seconda Dio tua che figo Ciao Ok vado recuperare la chiave del cancello Tu ammazza pure Ti do il permesso di sparare quando vuoi Eh Fatto Ti devo recuperare la chiave Oh tu vai su Guarda le soli delle cose Quello puoi aprire Mannaggia Non c'è la chiave del cancello Un'altra chiave Non c'è la chiave Non c'è la chiave Non c'è la chiave Ah beh Prendiamo Fatto Si Mi sono perso Mi sono dimenticato E' il quadro qua Cosa faccio? Prendo? Ah ci sta Ci sta prendendo Andiamo di oro Andiamo di oro Andiamo di oro Andiamo di oro Fatto ok Vado giù E faccio l'hacking Mentre tu fai le tue cose al contrario Mi sa che mi raggiungerai stavolta Non penso di fare il ginfretto Tutto per quello di quella chiave cancello Dai 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 che ci facciamo dai Non ho guardato che ora abbiamo iniziato Non ho guardato che ora abbiamo iniziato Non ho guardato che ora abbiamo iniziato Ah Ah Sto arrivando Ok posto E' il primo andato Ah ma che quello primo Non è difficile il suo colpo Non è difficile Vabbè Vuol dire che possiamo farlo 100.000 dollari in meno Ma se ne frega Andiamo andiamo Vabbè Andiamo qua la collana Si Mi dovete rubare però Mi sa Allora Proviamoci lo stesso Magari Mi sembra Prova Io Allora Vai tu Ah vai te No vai te vai te Tu puoi vedere la dentro se c'è qualcosa Vabbè Qua niente La collana si da d'alto dai Nulla Mamma mazza Non c'è niente Che stifo Allora dove sei la dentro dai 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 Parti delicato Parti delicato Secondo Guarda prestigione Guarda prestigione Polo Spogli un data Pogli un data Pogli un data Pogli un data Pogli un data Scusa Non lo so Io ti credo Guarda che sei la conoscritto Ok E' andata una collana Possiamo farlo, Elitz? Secondo me possiamo farlo, diamo qualche chance e la diamo. Hai problemi a sfruttare questa cappella. È visibile dal spazio, credo. Beh, noose. L'invasore è una buonissima arma. Ad avanti te. Andiamo qua sopra. Si può ricorrere un pochettino, ma non c'è nessuno. Va bene, apriamo. Sì, il tempo non ne stiamo perdendo. Bene. Ok, tu ruba un oro, anzi ruba tutto l'oro a terra. Facciamo così. Ah no, non conviene. Eh, guarda, guarda. Vediamo bene. Ok, dai procede. Tu hai fatto? Andiamo. Sì, ma non sono pieno ovviamente. E neanche io. Oh, guarda di qua. Bella corsetta. Bella corsetta. Bella corsetta. Bravo. Si dice, bravo, bravo. Occhio qua. Forse... Abbassiamoci qua. Perché vai di là? Perché... Perché ci sarà l'oro qua? Sì, no, perché ti vedevo ancora in alto. In alto? Oh, ma no. Dai ragazzi ce la facciamo, dai. Non manca molto il caio. Alla fine di caio. Dovrebbe essere qua. Sì, c'è l'oro. Ok. Speriamo che sia l'oro per l'entrambi. Perché ci accontentiamo del denaro. Sì, vabbè. Vai il primo rubo prima a te. La ci vanno. Vada, vada. C'è i soldi e l'oro qua. Sì, prima il denaro. C'è scusa, prima l'oro. No, prima l'oro. No, prima l'oro. Dovrebbe stare per l'entrambi. Il mio è pieno. Pieno, pieno. Pagliti. Ok. Vai, vai. Qua ti metti con una persona davanti. Ma dai, che non lo piglia. Intanto si bug e mette a fare queste cose. Ok. Sì, ce n'è per tutti. Dai, ce n'è per tutti. Ok, porto. Siamo pieni. Bene, ci rimane la fuga. Andiamo. Torniamo all'inizio. Iniziamo qua sotto. Non proviamo ancora. Ok. Vi saluto ragazzi. Va bene, grazie. Va bene. Ciao, grazie di tutto. Alla prossima. Ciao, ciao. Finiamo. Andiamo. Andiamo a guardare, dai. Va bene. Ok. Facciamo passare. Grazie per il sacerdote. Grazie per il sacerdote. Grazie. Speriamo di farci. Tensione, veramente. Qua, qua. Aspetta, aspetta. Questa volta non dobbiamo perdere il tempo. Andiamo dritti, dritti verso l'uscita. Tu hai finito i soldi? Hai finito le borse? Sì. Tutto oro. Non lo so, non lo so. Non lo so. Ma aspettiamo la guardia. La rottura, c'è la tavola di guardia. Adesso arrivo. Adesso arrivo. Adesso arrivo. Adesso arrivo. Facciamo il suo sforzo. E' un po' che perdiamo tempo. Ma non cosa ne faccio niente. Eh, quello... Deve fare il suo giro. Deve fare il suo giro la guardia, eh. Deve guardare. Deve guardiare. Deve guardiare. Come guardi ora. Dai che ce la facciamo, su. Io ci credo, ragazzi. Io ci credo. Troppo rischioso sparargli, troppo rischioso. No. Perché bisogna sparare contemporaneamente a quello e a quello. Quindi conviene far così. Adesso qui almeno... Anzi, non è pericoloso. Aspettiamo. Spero che se ne vada. Con un po', Fliccia ancora può vedere. Oh, fatto. Andiamo. Vieni che là. Conferma l'uscita col tasto destro. Ok. Fatto. E anche questa è andata, su. Forse, eh. Non lo so se è lì. Sì, siamo in un po' di lì. Un po' di lì. Più o meno, più o meno ci possiamo capire. Ok, dio. No. Io vado proprio nella solita guardia. Vai in alto. Il compound è fatto. L'unica cosa che bisogna fare è escapare. E' un lato colpo che si avvicina alla conclusione. E' un lato colpo che si avvicina alla conclusione. E' un lato colpo che si avvicina alla conclusione. La chiusa sarà sc ordente poterà pastiglia. E' un affide. E pochino. Pochino. E questo è un ultimo per ciò che ci sia utile. E' un qualcosa che si avvicina alla conclusione. O, dovevaluare la sp smoking? Ok. ado come? Mamma mia, Ubi è già qua. Ubi è già qua. Però non sa qua. Sì, non è Ubi. Vieni, votati giù veloce. Sì, sto arrivando. Ti sembra bloccato, dovevi troppo. Vai. Si è bloccato lì, non male. Si è bloccato lì, dai. Non ho qualche speranza. No, è lì che... Non abbiamo l'arte, dai. Speriamo, dai. No, non ho qualche altro. Tu è tutto il borsone pieno, vero? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Borsone pieno? Sì, è vero? Non abbiamo capito. Sì. Sì, mi sembra che sia finita. Sì. Non sono sicuro. No, non sono ancora bene. Non è arrivato nessuno. 10 lodi, capitani. 10 lodi. Bella ragazzi, è andata, è andata. Fatto. Porca miseria. È andata. Pazzesco. Vediamo com'è. Vediamo che sia lì. Sì. Non so il tempo. Come prestazione è stata ottima. Eh, non so. Con l'ultima guardia che non voglio sapere di morire. Nonostante non abbiano un sguotto in teorete. Non andava giù. È un peccato. Beccato. Ok ho. Vediamo il solito Milione. Seconda parte. 109. Sfile Elite è andata. Buona. Meglio ancora dell'altra che abbiamo fatto ieri Meglio ancora Meglio Ah si abbiamo fatto 13.23 Ieri abbiamo fatto 13.50 14.08 14.08 ieri Oggi 13.23 Non abbiamo preso milione perché non era difficile Tu dovresti aspettare la telefonata